Tutto confermato, il comune di Avellino è nel Pantano. La mozione di sfiducia non decolla. Nove firme possono solo aprire un dibattito, ma non consumarlo prima delle elezioni provinciali. Sfiduciando me e sfiduciano i cittadini è stata la presa di posizione di Ciampi, indirizzata a mai più preziosi e popolari che hanno chiesto agli altri gruppi di aderire sulla mozione. Tecnicamente il presidente Ugo Maggio non potrà portare la sfiducia in aula se di firme non ce ne saranno 13. Ma poiché il PD vuol giocare la partita delle provinciali, pur ritenendo finita l'esperienza Ciampi, se ne riparlerà dopo il 31 ottobre. Il rischio è che i consiglieri comunali che oggi firmano per la sfiducia non firmeranno domani. Ecco perché il capogruppo d'insieme protagonisti Gianluca Gaeta invita ad una riflessione politica ampia e non di parti contrapposte. Bisogna guardare all'obiettivo e non bisogna proporre una sfiducia. Quindi personalmente a me le provinciali non interessano. Io guardo alla città, ai problemi seri della città. Io per questo motivo invito tutti i consiglieri a guardare i problemi della città e quando poi ufficialmente si apre un tavolo dove seduti al tavolo ci sono tutte quelle forze, ripeto, che non hanno dato credito all'amministrazione, allora si può parlare anche di raggiungere l'obiettivo di sfiduciare il sindaco. Per il capogruppo del PD Enz Ambrosone le commissioni non hanno senso se si parla di amministrazione al capolinia. C'è chi ha proposto invece di allargare la platea. Il punto è che maggioranze e minoranze non si costituiranno neppure negli organismi così come in consiglio. Io non vorrei che qualcuno avesse immaginato che si possa attraverso un'alchimia tecnica far diventare maggioranza chi è opposizione. Se questa esperienza è finita non si comprende perché dobbiamo litigare su chi deve andare in quale commissione. Per noi la valutazione che farà il segretario generale di composizione di commissioni va bene comunque. Essendo svincolato dai partiti non ho esitato a firmare per la sfiducia, ma comprendo che ci sono altre logiche così dinopreziosi che in attesa di discutere del bilancio e del disavanzo chiede al commissario Tommasino di riferire in aula, al di là dei numeri, per comprendere le responsabilità. Ma è chiaro, se io ho dei dubbi o mi rendo conto che delle cose non sono state fatte come bisognava essere fatte e io ho bisogno di avere delle spiegazioni. Il fatto che sia un tecnico il commissario non lo esime dalle responsabilità.